Presentata la stagione cruceristica 2013 a Salerno, la presenza del sindaco della città, nonché vice ministro alle infrastrutture e trasporti Vincenzo De Luca e il presidente dell'autorità portuale Andrea Annunziata. Salerno è diventata una città turistica grazie anche al porto che nel primo trimestre ha registrato un incremento dei turisti del 16%, ora si punta all'introterra e a sviluppare ulteriormente il turismo di qualità. Valorizzare la risorsa mare, l'economia del mare anche a vantaggio delle aree interne? Il mare è il terminale di tutto il mondo produttivo che abbiamo alle spalle, sicuramente non del nostro apparato industriale che ormai non c'è più. Abbiamo la fortuna di avere un retroterra produttivo di grandissimo interesse per la vocazione specifica agroindustriale, soprattutto l'agro, la valle dell'Irno, ma anche in parte la Piana del Sele per la vocazione agricola che è importantissima, la Piana del Sele è una delle zone agricole più importanti, d'Italia, d'Europa, che ormai unisce ai prodotti agricoli anche centinaia di piccole attività industriali di prima lavorazione per i prodotti agricoli. Dunque c'è tutto un grande mondo produttivo che abbiamo nel nostro territorio che può trovare un'ulteriore sollecitazione allo sviluppo dalle attività portuali che stiamo implementando davvero in maniera eccellente. Ormai i dati sono consolidati che c'è un forte incremento non solo delle merci, anche il primo semestre registriamo un più 16% e qualcuno potrebbe dire la crisi che attenaglia tutti. E' vero, la crisi generale è un problema importante, però è altrettanto importante valutare in termini ottimistici per il futuro immediato questa crescita. Significa che nel territorio e sul territorio campano, salernitano, c'è una certa vivacità che non si è spenta e l'aumento di arrivo di merci e di esportazione significa che c'è fermento economico. Altrettanto è ancora di più nel settore croceristico e quindi la parte turistica che è quella parte che sicuramente i cinesi non ci potranno mai imitare. Le nostre bellezze sono uniche per cui possono fare dei modellini lì in Cina del nostro mare ma il resto no. Questo però deve portare ricchezza, questo fattore così importante, deve portare ricchezza non solo alla costa ma alle aree interne.